Oggi è 14 febbraio 2018 ed è San Valentino, una festa degli innamorati e quindi quale migliore occasione quella di oggi per la bella e simpatica Marena, attrice a Lucirossi di offrire a tutti gli utenti i consigli per fare l'amore in macchina e così detto fatto è successo proprio questo, la bella Marena in onda su D-Max al programma I Love My Car ha spiegato come fare l'amore tra fidanzati, tra coppia in macchina proprio in occorrenza di questa, chiamiamola, festività che unisce grandi e piccoli ed ecco che quindi ha dispensato validi consigli, ottime tecniche proprio per andare a migliorare il giocattolo più erotico e più sensuale degli italiani, proprio la macchina, l'automobile dunque consigli davvero piacevoli, eccellenti, straordinari che si sono fatti apprezzare da chiunque bene, complimenti dunque a Marena La Pugliese, attrice di straordinario calibro, di grande sensualità il video termina qua, complimenti a lei e al prossimo video da Nalato Italiano